In breve Nella seduta del 12 settembre l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato a larga maggioranza due documenti che impegnano la Giunta regionale a farsi promotrice del rilancio ed effettivo completamento della ciclovia del fiume Po, individuando all'interno dell'ente un'apposita struttura di coordinamento con particolare riferimento al ruolo che possono svolgere i parchi naturali piemontesi interessati dal percorso cioè i parchi della fascia fluviale del Po nei tratti cuneese, torinese, vercellese e alessandrino